Prima parla conquistata dalla formazione di Piombino 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 Oh sì, io ho fatto una messa, ho due liberi. Oh sì, io ho fatto una messa, ho due liberi. Oh sì, io ho fatto una messa, ho due liberi. Oh sì, io ho fatto una messa, ho due liberi. Oh sì, io ho fatto una messa, ho più un vino. Nobile Informazione di casa Ha bloccato il suo impegno Occi Occi Treppurti Mario Tilo di maggio Non ha riuscito Mario In attacco Nobile Nobile Francesco Nobile 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 Mariotti, in basso use, scappa, niente di fatto, non vanno tutta la scuola, c'è un vino, ora va in attacco, tre punti, buono a me, 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 buono a Franceschini lo mette a segno al primo libero, il secondo non riesce, non riesce a fare la giro, non riesce a fare la giro. Berangelo, 3 punti. Franceschini, 2 punti. Spaniano, 6 punti. I 5 punti. Sì, Sousi, Mario Sti. Bianchi, 3 punti Nobile, 2 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 punti 2 punti Nobile, 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 2 punti 2 punti Nobile, 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 2 punti 2 punti Nobile, 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 2 punti Maggio, 2 punti Nobile, 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 2 punti 2 punti Nobile, 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 2 punti